Martino Giacomo da Sansevero, un applauso per le due formazioni che stanno raggiungendo il centro del campo per l'inizio della seconda partita della seconda giornata del Memorial Gabriele di Felice di Pescara, la seconda gara della seconda giornata di questo Memorial, il terzo Memorial. Chi è che si prende la palla? Chi vuole la palla? Il campo? Il campo? Il campo? Il campo? Un tempo secco di 30 minuti con il time out richiesto da entrambe le formazioni e la seconda gara della mattinata e della seconda giornata di questo terzo Memorial di Albassimo Carinci. Mi sono dei tanze, c'è anche i guardarini a voi, c'è Thomas da questo lato. Ah, bravo!